allora ho fatto la pausa pranzo ho fatto la pausa pranzo adesso sto in pausa dessert dessert barra merenda allora questa è caffè macchiato ok vi devo far vedere una cosa clamorosa clamorosa l'ho promessa camilla e allora ho preso anche il dessert allora già che una una pietanza ti viene servita in tal guisa radica vince tutto il vincibile no se si può dire se dice vincibile buono lo so allora è la crostata ai frutti di bosco adesso io ho promesso a camilla dico faccio post su instagram la provo l'ho tagliata perché la porto a casa la faccio prova pure a casa corso cavur 28 macerata il contadino che sto in questa location quasi surreale chi è chi è allora aspetta eh cioè già già che ti si presenta così 100 punti vinto tutto capito camilla allora l'ho tagliata già perché la porto pure a casa netta degli dei tornata una collega ma dove a caso la crostata al contadino la ragazza che la fa camilla non posso mangiare che c'è aspetto faccio qualcosa e lo metto su instagram lo sto a fare mo si riata tu hai visto che mangiare sto a parlare da solo ma sto a parlare da solo una roba spettacolare mazza è buona se scioglie in bocca vuoto mille mazza è buona come come top